Dopo mesi di tensioni e angosce per vieticoltori, operai, trasportatori e maestranze legate alla filiera saccarifera, finalmente questa mattina con l'apertura dei cancelli e l'ingresso degli autotreni colmi di Barbabietole si è aperta la campagna di produzione 2014 dello zuccherificio del Molise. A dare una svolta alla situazione che oltre ad essere incagliata appariva in cancrenita è stato un accordo dell'ultima ora raggiunto tre giorni fa tra le regioni Molise, Puglia e Marche con i rappresentanti del Ministero delle Politiche Agricole. Un accordo tampone, come lo hanno definito i sindacati, che non risolverà le questioni sul campo ma che per il momento conferisce al settore una boccata d'ossigeno. Il nodo cruciale della questione è rappresentato dal drastico calo del prezzo dello zucchero su un versante e la condizione di instabilità e precarietà nella quale versa lo stabilimento saccarifero termolese. Ai bieticoltori lo zuccherificio del Molise ha garantito un compenso pari a 20 euro per tonnellata di bietole conferite, un valore assolutamente al di sotto della quota di mercato fissata invece a 39 euro. E' proprio sulla differenza che nei giorni scorsi si è raggiunta l'intesa, prevedendo per la parte restante un sostegno economico da parte delle regioni interessate, ciascuna ovviamente con riferimento ai bieticoltori di propria pertinenza. Parte quindi così con un sospiro di sollievo ma con un piede comunque sulla china di un futuro incerto la nuova campagna saccarifera. Soddisfazione da parte dei vertici istituzionali e quelli aziendali. Nei giorni scorsi abbiamo dovuto risolvere una serie di problemi che si sono accavallati nel tempo per essenzialmente per la mancanza di liquidità che aveva il nuovo sacrificio del Molise. L'abbiamo risolta con l'aiuto di tutta la parte tecnica dell'azienda. Abbiamo dovuto fare qualche viaggio in più a Roma o ad altre città per avere il consenso dei fornitori e poi ci siamo riusciti. Domenica sera abbiamo acceso il primo forno, eravamo in pochissime unità. Lunedì abbiamo acceso il secondo forno con la partecipazione di un buon numero di dipendenti. A tutti ho detto che bisogna collaborare, lasciare da parte le polemiche, sicuramente ci sono stati degli errori nel passato che speriamo di non ripetere ma è importante chiaramente continuare.